E questo è un Samsung Galaxy Ace, ovviamente con la cover, per non farsi rompere, lo tirerò sull'erba oggi E come vedrete, tu com'è che ti chiami? Su Youtube E' Pinalex E' Pinalex, iscrivetevi al suo canale e... bravi Cliccate mi piace per questo video Con la testa di cazzo di gira il coso del clima Vento, vento Cosa fa? E' un vecchietto E' un vecchietto Adesso il telefono è andato molto lontano C'è il vecchietto che c'è andato... Wow, bravo Allora, facciamo un altro lancio qua Facciamo un altro lancio Intanto lui, quello che sta facendo il cretino in questo momento Si chiama su Youtube Luca Facincani Iscrivetevi al suo canale Da Pirla E... E... Cliccate... Cliccate mi piace Cliccate mi piace su questo video, eh E ricordatevi... E anche i commenti E anche i commenti commentate se non vi è piaciuto Magni ma come dice Danny Sono libero! Adesso lo rilancio e... Sono libero! Sono libero! Si è spezzato metà! Si è spezzato metà! Dammi il telefono! Dagli il telefono vecchiaccio! Dagli il telefono! Dagli il telefono! Dagli il telefono! Oh, non me lo lanciare! Non me lo lanciare! Non me lo lanciare! Vai cane! Eh... Voglio salutare... Con il telefono che gli è entrata la terra nel... Culo della USB Eh... Voglio salutare Daniela Doesn't Matter Che è il mio youtuber... Che è il mio youtuber favorito ma in figa ma... E... Favij per... La fantastica... Eh... Serie di Scriberlounce Eh... Bella tutti ragazzi Come dirò... Non fa un culo Nei prossimi video Che entrerò su Facebook anch'io con il nickname di... ZRX02 ZRX02 E adesso chiudi il video... Eh... Ciao! CHIUDILO!